Il centro medico d'archivio arriva anche in Val Vibrata, a Sant'Egidio, con un nuovo centro diagnostico. Sì, da tanto che volevamo sbarcare, tra virgolette, anche in Val Vibrata, ci siamo riusciti. Sono veramente felice di averlo fatto qui a Sant'Egidio, offrire alla popolazione vibratiana la possibilità di esami di diagnostica veloce e anche quel discorso di prevenzione che è tanto caro per il gruppo medico. Quali saranno, nello specifico, le attività che si svolgeranno in questo centro? In questo centro potremmo fare esami di risonanza magnetica articolare, esami di radiologia tradizionale a tutto tondo, le panoramiche, quindi l'OPT per l'aspetto tontoiatrico e ecografie ed ecocolordoppler. Sotto questo punto di vista, lo diceva anche lei, l'importanza della diagnostica in questo, tra virgolette, anche momento storico. Sì, è importantissimo. Abbiamo visto con l'avvento, purtroppo, del Covid un aumento a dismisura degli esami, della richiesta degli esami in privato, perché purtroppo le strutture pubbliche sono state sommerse, tra virgolette, dal lavoro in mane del Covid, per cui le nostre strutture hanno sopperito un pochettino alla mancanza, alla impossibilità, poi dall'ambiente pubblico di poter soddisfare la richiesta della popolazione. E in questa veste si inserisce anche il discorso qui di Sant'Egidio, perché nella Val Vibrata non esiste un centro privato radiologico, esiste soltanto l'ospedale di Sant'Omero. Questo centro sarà aperto durante tutti i giorni della settimana o avrà delle giornate specifiche? No, no, è aperto tutti i giorni, dalla mattina alle 8, alle 8 di sera, da lunedì al venerdì. Per il momento saremo chiusi soltanto il sabato mattina. Sindaco Romandini, sul territorio cittadino arriva un nuovo servizio, un nuovo centro diagnostico, oggi l'inaugurazione. Sì, ho saputo quando ho saputo, molto contento, perché comunque c'era stato, adesso ho parlato con il direttore d'archivio, che già nel 2013 pensava comunque di aprire un centro qui a Sant'Egidio. Poi per una serie di motivi siamo arrivati ad oggi, sono contento, lo ringrazio, ringrazio lui, ringrazio tutta la sua equip per i cittadini, ma è un servizio che si aggiunge agli altri che abbiamo. Sant'Egidio poi è un comune, adesso mancano pochi numeri, saremo a 10.000 abitanti, sono comuni qua intorno, ringrazio e saluto anche i sindaci qui confinanti con noi, che sono qui presenti, insomma c'è solo da essere contenti, non solo per me, ma soprattutto per i cittadini.